Sarà una città blindata e con ingenti misure di sicurezza, quella che domani ospiterà il Premier Mario Draghi e il Ministro per il Sud Mara Carfagna, che inaugureranno il Parco della Memoria a Piazzale Paoli. È stata una mattinata di tavoli in prefettura e sopralluoghi sul posto, con dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio, per mettere a punto il programma definitivo. Il Premier raggiungerà la città intorno alle 9, atterrerà all'interno della Scuola della Guardia di Finanza a Coppito, prima di raggiungere il parco in auto, dove la cerimonia dovrebbe iniziare intorno alle 9.30. Si era pensato all'inizio di prevedere due momenti, uno all'auditorium del castello per la firma dell'ultimo contributo per la ricostruzione e uno al parco, ma si è scelto poi di organizzare la sola cerimonia pubblica alla fine. Alla vigilia della visita sembrano spegnersi un po' le polemiche, dopo il duro attacco di Vincenzo Vittorini del Comitato Familiari delle Vittime, a smorzare un po' i toni ci ha pensato il dottor Massimo Cinque, che in quella notte terribile ha perso i due figli e la moglie. Cinque ha annunciato che ci sarà per rispetto di tutti i martiri del terremoto e sarà un'occasione per chiedere al governo più impegno sulla prevenzione, ma molti altri familiari hanno fatto sapere di non essere stati invitati e che quindi non ci saranno e che presenzieranno invece il 30 all'inaugurazione della biblioteca dell'Università Arroio, dedicata proprio agli studenti che hanno perso la vita. L'attenzione delle forze dell'ordine massima per evitare momenti di tensione o contestazioni avvenute per onore del vero spesso a ogni presenza politica dal doposisma in poi, soprattutto nell'immediato. Questa mattina gli ultimi ritocchi per la ripulitura del parco, la zona della villa sarà praticamente inaccessibile, con tutte le vie vicine a Piazzale Paoli che saranno off-limits, si potrà accedere solo da Via Lecrispi. La visita dovrebbe durare circa un'ora, non ci sarà nessun palco ma sedute distanti. Parleranno il Premier, il Ministro, il Cardinale Petrocchi farà la benedizione al parco, ovviamente parlerà anche il Sindaco per Luigi Biondi.